Oh, non me ne privo di dover registrare assolutamente un altro video di Clash of Clans Hakuna Matata ben ritrovati dal vostro Incevro89 Sto cercando di muovermi nelle migliori delle mie possibilità Non è facile sviluppare un nuovo TH In questo caso abbiamo il TH11 Non è assolutamente facile Non me lo pinga Non so perché forse sia un attimo buggato Clash of Clans Probabilmente, sì Decisamente credo che si sia buggato notevolmente Aspettate, ah no perché ho ancora le costruzioni aperte Ma ve faccio vedere scusatemi Un bel pollicione in su Allora come dicevamo TH11 Io sto continuando a registrare nello stesso momento in cui ci siamo lasciati l'altra volta Avrei una cassa di gemme da aprire ma chissà quando me lo ricorderò I costruttori sono potenziati La ricerca è potenziata Le mie unità stanno uscendo Andiamocene Sul secondo villaggio Perché pure il secondo villaggio Non è affatto Affatto male Quindi Ragion per cui A questo punto Che cosa Potenziamo Perché è importante Perché in realtà Che lei ce l'ho di livello mega galattico Ancestrale E dove trovarla Assolutamente Devo capire Non è facile Devo veramente capire qua Perché ho visto che tanti poi attaccano di cannone Una cosa che va bene è il baby dragon Una cosa molto forte Furte Sono anche loro Secondo me sono forti Ragazzi Ragazzi Poi dobbiamo comunque potenziarli tutti Questa è una cosa che si è capita Assolutamente Sentite Sapete che c'è Me ne vado col baby dragon Me ne vado col baby dragon E vado a potenziare Per 30 minuti Quello che dobbiamo potenziare Vi faccio vedere Tra l'altro C'ho le unità Di livello 12 Cioè Dato che c'ho il potenziamento attivo E tutto quello che vi pare C'ho queste Di livello 12 Non so se Eh No Dovrebbe essere Tra l'altro Senza potenziamento Non lo so No Penso siano potenziate Ma da lo stesso livello Rega Non ci sto capendo più niente Abbiate pazienza Non me Massacrate Dovremmo essere Fortissimi In questo momento Cioè dovremmo veramente Fare dei buchi Per terra Giganti E E dove trovarli Dovremmo andare sul mortaio Però partiamo dalla parte Quella un po' più bassa Vedete Sono tutte potenziate Incazzatissime Vediamo Io ultimamente Sto attaccando Con questa tipologia qua Mi sto trovando abbastanza bene I pipistrini ragazzi Sono fortissimi Se vede che sono potenziati E tutto quello che vi pare Secondo me Poi magari La macchina al 10 Secondo me dovrebbe essere Tanta 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 roba Vai vai Fate fuori tutti Fate fuori tutti Senza Senza Pensarci troppo Vai vai Strega Se quella sopra Purtroppo non è riuscita Nel suo intento Non è andato benissimo L'attacco Sembra che è andato bene Ma c'è il mortaio Che mi distruggerà Tutte le mie streghe Purtroppo Eh già Eh già Tutti morti Ragazzi una strage Non male Non male Il villaggio Di questo qua Purtroppo penso di Schiattarci adesso Perché vado su quello E quello si sa Che ti massacra La macchina Vabbè Abbiamo fatto il 48% Peccato per un 2% Potevamo fare Molto molto di più Andiamo a vedere Che cosa fa Il nostro opponent Sapete che il secondo villaggio È quello che Mi piace Un po' meno di tutti Peccato 48% Pure lui Oddio Lo sapete che Mi sa che Invece Ce l'abbiamo fatta Perché noi abbiamo fatto Una stella Dovrebbe essere No Ah no Perché lui C'ha 50.000 arcieri Ancora Ah Giusto 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 Beh non dovrebbe essere Un problema O sbaglio Mica mi ricordo Regà Sì perché Molli qualche danno Me lo fa E no Noi abbiamo fatto Il 48% Con una stella Quindi niente Lui ci ha vinto Perché c'ha gli arcieretti Sta facendo le cose magiche Purtroppo questo Noi ce l'abbiamo In costruzione E ha fatto il 59% È giusto È giusto È giusto Devo togliermi il mortaio Ragazzi Assolutamente Mi devo togliere il mortaio È carino come attacco Lo trovo divertente Dai Vai faccio così Sperando che vada Tutto come deve andare Purtroppo quello Mi gira Eh delle volte Raga Quando mi gira Mi gira Non c'è posto Fai niente Arrivano un sacco Di pipistrellini Dammi una mano Però Però La vedo comunque Abbastanza difficile Eh certo Eh certo Vada quanto fa male Quel coso Elevate mortaio Maledetto Che mi avete fatto fuori Praticamente tutte le mie stregonze Che questo C'aveva anche Il villaggio Abbastanza basso Se proprio Vedevo di la mia Ok Siamo riusciti a fare Qualche Piccola Extra 74% Regà Io lo trovo Notevolmente Non dico noioso L'attaccare Il secondo villaggio Perché è molto lento Ma veramente È lentissimo Quindi questa Ondata Di pipistrelloni Io potrei attaccare Tranquillamente Qua Molto bene Facciamo così va Andiamo subito Perché tanto le streghe Mi stanno a fare Un altro giro Rispetto a quello Che magari Mi dovevano fa Ma no che ce ne frega Togliete il doppio cannone Che sennò Vi fa una strage Ok Mi trovano i pipistrellini Vai vai ragazzi Vai 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 Mortaio Mi sta focussando bene Eh Mo c'è sta il coso Quello là Ok Stanno tutti sul mio mortaio Eh sulla mia macchina Mamma mia regala Avete vista la bomba Quella mega gigante Megatronica Quello che mi ha fatto Sì io spero che voi Abbiate visto Eh mi sono rimaste Tre ragazzi Mi sono rimaste Solamente Tre ragazzi Ok però Vedi 69 Sarà il segno del destino Andiamo avanti 69% Non è Brutto 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 Con due stelle Eh infatti Ok E andiamo ancora avanti Questo dovrebbe essere Piccolino come Villaggio Villaggio Datemi consigli Come sempre Nei commenti Per attaccare Con queste cose Bla 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 Bli 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 E blu 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 Mortaio Devo cercare di Ok Doppio cannone Per il momento Lo sto targettando io Non ci hanno più difese Loro Ok È importantissimo Regà che mi tolgono Quel cannone gigante Mega galattico E dove trovarlo Esatto Molto bene Molto bene Stregone Datemi una manina Quello l'abbiamo tolto Eh purtroppo Quello mi sta prendendo Una cosa che non doveva prendermi Ok Brutta storia Brutta storia Tantissime streghe Ancora attive Però purtroppo C'è il mortaio Raga C'è il mortaio Mortaio è quello che Secondo me Countera le streghe Per eccellenza Perché nessuna strega Purtroppo mi sta andando Centrale C'è i pipistrellini Intendo C'ho una valanga Di pipistrellini Una roba Forse esagerata Però Non è che ce ne frega Vai così Aaaaa 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 82% Il villaggio La denta Ha funzionato La difesa Perché è mandato Tutto quanto All'esterno E abbiamo fatto L'82% Raga Oddio Abbiamo vinto Va Meno male Dovremmo aver vinto Dovremmo aver vinto Perché il mortaio Sta lì Mamma mia Quanto danno Fanno ste streghe Raga Dai Su 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 Perfetto 65% Noi abbiamo fatto 80 80 Qualcosa Non male 82 Infatti me lo ricordavo E va bene Questi tre attacchi Li abbiamo fatti Qui Ipoteticamente Io non posso fare più niente Perché abbiamo fatto I nostri attacchini Li abbiamo fatti Qui Noi Stiamo Farmando Stiamo facendo tutto Quindi non posso Proprio Più fare nulla In questo momento Anche perché C'ho l'oro Potrei completarlo Ora Per dire Potrei Completarlo Ora Il problema È che adesso Clash of Clans È veramente Ho difficoltà A portarvi i contenuti Perché io Il primo Io il primo Sto a Disneyland Cioè Parto Cioè Scusate Non il primo Abbiate pazienza Il Il 5 Parto Non lo so Se siamo fortunati Mi si liberano Un po' di costruttorie Per fare qualche altro contenuto Va bene Signori Signorine Ve voglio bene L'ho fatta La miniatura Per questo video qua Sì l'ho fatta Ci vediamo Al prossimo appuntamento Ciao Ciao Ciao